E' tutto te! E' solo Fede! E' solo Fede! Preventiva! Preventiva! Bravo! Mister Di Carlo, insomma la prima amichevole, un amichevole abbastanza all'acqua di rose, però insomma un 11 a 0, qualche indicazione alla vista. Ho provato due formazioni, primo tempo e secondo tempo. Beh intanto salutiamo tutti i tifosi che sono venuti, i ragazzi li hanno salutati tutti, li saluto anch'io, li ringrazio per essere stati con noi e per applaudire i nostri giocatori. Poi sulla partita, dopo due giorni, non è semplice prendere indicazioni e soprattutto dare delle certezze, si può dire così. Oggi è un test che è servito per capire e per conoscere meglio un po' i nostri giocatori, da parte mia. Hanno dimostrato tutti quanti un buon impegno, hanno messo in campo un buon impegno. Chiaramente le giocate devono ancora venire quelle in velocità, quelle che servono per arrivare vicino alla porta più velocemente possibile, ci servono più giorni. Però mi è piaciuto l'impegno, mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto la voglia di voler fare qualcosa insieme da squadra. Perché ho visto poche giocate singole ma molte da squadra e questo è già un buon inizio per quello che le avevo chiesto. Ecco, diciamo, forse è più impegnato l'attacco della difesa o no? Sì, oggi sapevamo che oggi è più impegnato l'attacco. Abbiamo fatto dei buoni movimenti, però è chiaro che siamo all'inizio. Lo smarcamento, il giocare fra le linee e ricevere la palla un po' più velocemente, questa è una cosa che sarà con il passare del tempo. Però, ripeto, quello che è stato buono, i nostri tifosi, l'atteggiamento dei ragazzi e la voglia di giocare da squadra, che già questo è una buona indicazione. Ecco, il clima, com'è poi l'incontro con anche i nuovi, i vecchi della squadra, lei che è arrivato ex novo quest'anno? Ecco, il lavoro da fare è proprio questo qui, metterci insieme tutti, cercare di conoscersi il prima possibile, capire le caratteristiche dei giocatori che sono arrivati nuovi, con i vecchi, perché chiaramente c'è da conoscersi il prima possibile. In allenamento stiamo cercando di fare proprio questo. Mi è piaciuta la predisposizione dei vecchi e soprattutto anche la voglia e la motivazione dei nuovi per cercare di dare qualcosa in più, perché questo per noi è importantissimo in questo periodo qua, atteggiarsi e mettersi a disposizione come avevo chiesto. Loro lo stanno facendo, stiamo lavorando bene, siamo appena all'inizio, però tante cose non si possono... cioè, andare più in là è difficile dirlo, anche perché comunque il test di oggi era giustamente un test per i primi due giorni di allenamento, era anche difficile cercare di metterci dentro qualcosa in più. Questo è uno spunto interessante, Giacomelli trequartista. Sì, abbiamo giocatori di qualità, sia in avanti che in attacco. Io, devo dire, Giacomelli trequartista ha dato disponibilità, lo proveremo lì. Giacomelli è un giocatore importante, è un giocatore che per Vicenza è un giocatore che sposta l'equilibrio insieme a tanti altri. E quindi cercheremo di vedere anche nelle prossime uscite le risposte che ci darà il campo. Oggi, ripeto, abbiamo giocato contro una squadra che secondo me... Io mi piace tantissimo giocare sempre con la squadra locale, perché sono ragazzi che sono anche tifosi, fra virgolette, e si sono comportati anche abbastanza bene, ho visto oggi, perché comunque ci hanno messo impegno anche loro. Quindi facciamo i complimenti anche ai setti comuni che hanno fatto una buona gara. Mister, siete partiti per il ritiro con un organico già abbastanza costruito. Penso che puoi dirti soddisfatto del lavoro fatto dalla società. Assolutamente sì. L'obiettivo principale era arrivare qui, come abbiamo dichiarato, il 70-80% della squadra. Con l'arrivo di Marotta abbiamo raggiunto questo tipo di percentuale. Oggi abbiamo visto tanti buoni giocatori, chiaramente all'inizio c'è ancora da scopirli quelli nuovi, quei vecchi sappiamo che garanzie ci possono dare e questo mix che deve venire fuori. Ma quello che mi piace è che giorno dopo giorno, in questi quattro giorni di allenamento, si va sempre più in crescendo sulla conoscenza, sull'entusiasmo e su quel modo di diventare squadra che deve essere per noi importantissimo perché il Vicenza deve essere squadra con la S grande, con la S grande, non con la S normale, per quello che riguarda questo campionato qua, perché è un campionato da fare da protagonisti e quindi qui si prepara questo campionato. Abbiamo visto in campo nel primo tempo Oliviero. Vi siete dati delle tempistiche per giudicare se il ragazzo rimarrà qui o no? Sì, il ritiro, lui è stato bravissimo chiaramente a dare disponibilità, si gioca anche lui un'opportunità importante, ma noi lo conosciamo già il giocatore, quindi è solo, secondo me, vedere questo ritiro come arriva alla fine del ritiro. Le sicurezze per noi ci sono su Oliviero, lo conosciamo già, vediamo fisicamente come sta, se dovesse star bene fisicamente, sicuramente è un giocatore che può darci una mano, però questo lo vedremo a fine del ritiro. E la domanda di Vito, quanto ci vorrà per vedere il Vicenza di Mimoni Carlo? Beh, siamo nuovi, ce ne sono un po' di nuovi, sono nuovo anch'io, quindi devo anche io cercare di mettere la mia idea a disposizione dei ragazzi e condividerla con loro, dare loro sicurezze, dare loro indicazioni giuste, dare loro delle certezze e questo lo si fa con gli allenamenti, però il ritiro serve innanzitutto per preparare la squadra, preparare la squadra a livello fisico, conoscersi, a livello mentale e le difficoltà che arriveranno, che spero che arriveranno, perché oggi ho scritto tante cose, queste servono anche per gli allenamenti, quindi diamo il tempo giusto anche a una squadra di conoscersi e soprattutto di fare il ritiro. È chiaro che prima arrivano i ritmi alti, ma oggi non li posso chiedere, non li potevo chiedere oggi, fino a domenica lavoreremo molto sia sul lavoro resistente, soprattutto della operazione del ritmo, ma anche sulla forza, quindi andremo sempre a caricare molto di più, poi si sarà nella seconda settimana e dalla seconda settimana che andremo un po' ai carichi a metterli normali, quindi vedremo da qui alla seconda settimana come arriveremo alla seconda partita.